Signor Presidente, Eccellenza, Signor Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Eccellenza, Signore e Signori, A nome del Corpo Diplomatico, accreditato presso la Repubblica Italiana, sono ben lieto di presentarle, Signor Presidente, gli auguri in occasione delle ormai prossime festività natalizie e per l'inizio del nuovo anno. Questo incontro, che ci riunisce intorno al Capo di Stato del Paese che ci ospita, è sempre una bella occasione per confermare l'importanza delle relazioni che esistano tra questa terra e i popoli e le istituzioni che come ambasciatori rappresentiamo. Tutti siamo consapevoli di quanto sia necessario e urgente in questo particolare momento storico di rivendicare da parte della comunità internazionale il suo ruolo di garante dei diritti fondamentali alla coesistenza pacifico, alla collaborazione e al progresso, e il suo dovere di impegnarsi per la tutela del bene comune. Dopo il lungo inverno dovuto alla pandemia, ciascuno di noi avrebbe preferito tornare a essere portavoce di un messaggio di crescita e di ripresa. Tuttavia, gli scenari di conflitto e di sofferenza che si trascinano da mesi e continuano a aggravarsi anche alla porta dell'Europa obbligano a confrontarci con la responsabilità del nostro ruolo di potenziali artefici di quel dialogo che solo apre alla speranza. Signor Presidente, nel suo discorso del 23 ottobre scorso, in occasione dell'incontro internazionale sul tema «Il grido della pace, religione e cultura in dialogo», lei ha giustamente ricordato che la sfida è sempre la stessa. realizzare con perseveranza percorsi di pace attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi. Signor Presidente, di ciò che siamo e abbiamo ottenuto dobbiamo molto al nostro passato, a coloro che hanno testimoniato, anche con la vita, i valori che sono la base delle nostre società e che essi consideravano non negoziabili. Ritenevano che l'impegno per gli altri fosse un dovere e una responsabilità non delegabile. Spetta dunque a noi tutti costruire la nostra casa comune su questo fondamento di solidarietà e di fratellanza che devono ispirare le nostre azioni per diventare una testimonianza alle generazioni future. La stessa eredità del popolo italiano, la cui generosa ospitalità è apprezzato da tutti noi, parla di una storia fatta di cultura, fede, arte e convivenza di civiltà e di tradizioni. Il suo esempio, come quello di altri popoli in Europa e nel mondo, dimostra che il nostro futuro è strettamente intrecciato per scelta e per vocazione e che le sfide del tempo rappresentano la chiamata a una nuova civiltà, nella quale, ricordando le parole di Papa Francesco, un'etica globale di solidarietà e cooperazione diventa la base per una pace reale e duratura per l'intera famiglia umana. Signor Presidente, poggendo a lei, a tutto il popolo italiano, che quotidianamente le dimostra il suo affetto e la sua riconoscenza, i migliori auguri per le prossime feste e per il nuovo anno, unisco anche i migliori voti e desideri di speranza, affinché i mesi a venire possono aprire a prospettiva di dialogo e di pace, per riparare ciò che gli orori della violenza hanno distrutto e per restituire a quanti soffrano il futuro di bene che meritano. Signor Presidente, le auguriamo ogni bene e che presto possa riprendere a pieno le sue attività istituzionali. La ringrazio. Eccellentissimo Decano, Signor Ministro, Signore e Signori Ambasciatori, desidero anzitutto scusarmi per le modalità inconsuete di questo incontro, ma era l'unica formula per poterlo svolgere e non volevo rinunziare a questo tradizionale appuntamento annuale cui ho sempre attribuito importanza primaria. Ringrazio l'eccellentissimo Decano per gli auguri che a nome del Corpo Diplomatico ha rivolto all'Italia e a me personalmente. Desidero a mia volta ricambiare gli auguri più sentiti per le prossime festività. A voi tutti, alle vostre famiglie e ai cittadini dei Paesi che qui a Roma rappresentate. Un anno fa, in questa stessa circostanza, ci auguravamo un futuro migliore, dopo le sofferenze causate in ogni continente dalla pandemia. Mai avremmo pensato di dover assistere, pochi mesi dopo, all'immane disastro causato dalla guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Un'aggressione che ha fatto ripiombare l'Europa in un incubo che eravamo certi fosse destinato a rimanere nelle pagine più buie della nostra storia. Mai avremmo pensato che quell'incubo potesse ripresentarsi. E mai avremmo pensato che un Paese come la Russia, a noi così vicino, per cultura e per storia, potesse arrivare al punto di attaccare le infrastrutture civili dell'Ucraina, al fine crudele di privare la popolazione di luce, di acqua, di riscaldamento per tutto il lungo e rigido inverno di quei luoghi. Un anno addietro, con la pandemia, ci dicevamo l'un l'altro che nessuno poteva sentirsi al sicuro, finché tutti, ovunque nel mondo, non fossero stati al sicuro dalla malattia. Oggi, purtroppo, dobbiamo constatare come lo stesso Assioma valga anche per quanto sta avvenendo in Ucraina. In un mondo sempre più interconnesso, le sofferenze inflitte dalla guerra non stanno colpendo soltanto l'Ucraina. In ogni angolo del mondo, cittadini di Paesi diversi e lontani fra loro soffrono per le ripercussioni del brutale attacco russo. L'insicurezza alimentare, le difficoltà di approvvigionamenti energetici, la crescita esponenziale dei prezzi colpiscono in maniera indiscriminata in tutti i continenti e ovunque le fasce più deboli sono le prime a pagare il prezzo di quella scelta accelerata. Vengono così violati insieme ai diritti del popolo ucraino i diritti fondamentali di milioni di persone nel mondo, diritti che sono le fondamenta delle nostre democrazie. Shirin Ebadi, prima donna musulmana, premio Nobel per la pace, ha detto per prenderci cura di una bella pianta dobbiamo innaffiarla tutti i giorni e stare attenti a quanta luce riceve. Non possiamo limitarci a versarci sopra una grande quantità di acqua e poi ignorarla per un anno. In queste condizioni la pianta muore e lo stesso avviene per la democrazia. Se non viene sorvegliata dalla gente muore. Sono parole da condividere. Oggi la comunità internazionale, noi tutti, dobbiamo prenderci cura della democrazia, difenderne con vigore quei valori ideali che rappresentano la condizione indispensabile perché tutti possano godere dei diritti umani fondamentali. Come possiamo accudire le nostre democrazie? Come possiamo lavorare per una pace giusta? La comunità internazionale dispone degli strumenti per assolvere questo compito ed è necessario che i governi ripongano fiducia in quelle organizzazioni a cominciare dalle Nazioni Unite che nacquero proprio per rispondere all'esigenza di salvaguardare pace e democrazia. Serve una governance globale e un rilancio urgente di un multilateralismo efficace che contribuisca allo sviluppo di un ordine mondiale imperniato sulle Nazioni Unite e portatore di pace e di giustizia basato su istituzioni rappresentative democratiche trasparenti responsabili efficienti. In una fase di forte compressione dei diritti umani e dei valori democratici il loro rafforzamento deve essere parte integrante di questo nuovo slancio. Non dobbiamo consentire che l'affanno delle crisi contingenti ci distragga dall'azione di riforma del sistema multilaterale e delle sue istituzioni. Non dobbiamo rinunciare a rafforzare un ordinamento internazionale che sia capace alla prova dei fatti di garantire certezza del diritto rispetto dei diritti umani soluzione pacifica delle controversie. Dobbiamo avere la visione nella determinazione per modellare strumenti in cui tutti gli Stati possono rispecchiarsi e riporre fiducia. Attraverso questi strumenti dobbiamo agire per creare le condizioni perché i nostri giovani possano tornare a guardare con fiducia al futuro di cui saranno i protagonisti. Purtroppo, invece, in questi giorni si assiste a ripetuti brutali tentativi di soffocare le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione. Questi comportamenti vanno fermamente condannati. Si condanna da se stesso uno Stato che respinge e uccide i suoi figli. Al tempo stesso dobbiamo agire per mitigare subito le conseguenze prodotte dalla guerra. Penso alla improvvisa interruzione delle esportazioni di beni alimentari e al conseguente incremento dei prezzi che hanno inasprito una crisi alimentare senza precedenti. L'Italia sta dedicando sorsi e risorse per rendire questa crisi degli approvvigionamenti pensando a soluzioni innovative, sostenibili, in grado di produrre ricchezza per le popolazioni locali. Lavoriamo con i nostri partner e con FAO, IFAD e PAM che insieme costituiscono il polo alimentare delle Nazioni Unite che siamo fieri di ospitare in Italia. Ugualmente catastrofiche sono la crisi energetica e le sue conseguenze, non soltanto immediate ma anche a lungo termine. Mentre ripensiamo alle scelte in materia di approvvigionamenti, non dobbiamo dimenticare gli impegni anche per le future generazioni per una transizione pulita, soluzione duratura e sostenibile, mezzo indispensabile per la lotta a riscaldamento del pianeta. Le energie rinnovabili significano sicurezza e autonomia, nonché convenienza economica, creazione di valore e occupazione. Preoccupano in ugual misura i rischi di chiusura in se stesse delle nostre economie, come possibile reazione al momento di crisi. In Europa, come ovunque, non dobbiamo cedere alle lusinghe del protezionismo, di una presunzione di autosufficienza. L'interdipendenza la storia ce lo insegna è un fattore prezioso di pace e di stabilità e di benessere. Penso infine ai flussi migratori che stanno attraversando una forte intensificazione quale diretta conseguenza della insicurezza alimentare e della instabilità prodotta dalla guerra. Un fenomeno con caratteristiche complesse che non devono però farci dimenticare che il primo irrinunciabile obiettivo della comunità internazionale deve essere quello della tutela dei diritti dei migranti. Se ricordassimo che dietro i numeri che freddamente vengono annunciati nelle statistiche sui migranti vi sono bambini donne famiglie sarebbe più semplice credo farci guidare soprattutto dal principio di realtà e di solidarietà nell'individuare soluzioni in grado di governare collettivamente questo fenomeno. Per l'Italia tutte queste sfide vanno affrontate innanzitutto con i nostri partner transatlantici e in seno alla Unione Europea che nasce come unione di democrazie che riconquistate la libertà si impegnavano a tutelare la reciproca indipendenza e a unire le forze per promuovere una ricostruzione rapida a beneficio comune. Un mese addietro mi sono recato a Maastricht per celebrare i 30 anni di uno dei passaggi cruciali della costruzione europea la firma di quel trattato che dava vita alla cittadinanza europea. È stata l'occasione per incontrare dei giovani studenti di tutta Europa nelle domande che hanno posto ho trovato certo preoccupazione per il futuro ma anche fiducia in una Unione che deve trovare oggi la forza di rinnovarsi senza abdicare i suoi principi fondanti. L'Unione europea deve rimanere al passo con i tempi. I grandi cambiamenti e le side di questi ultimi anni impongono a tutti noi un'assunzione di responsabilità. Questo è il messaggio che è emerso lo scorso maggio dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa. Le proposte della Conferenza frutto dell'interazione tra le istituzioni europee e i rappresentanti dei cittadini indicano un percorso chiaro di riforma. Nel riformare se stessa l'Unione non deve correre però il pericolo di guardare soltanto all'interno dei propri confini ma deve continuare a mantenere viva la vocazione al dialogo e alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri Paesi. L'Unione europea può e deve porsi come partner affidabile e fornitore di sicurezza responsabile a livello globale. Prosperità stabilità e sicurezza non sono soltanto valori da garantire ma interessi strategici da difendere. L'aggressione russa in Ucraina ha ulteriormente posto in evidenza la continuità geopolitica e la strategica rilevanza dei rapporti tra Italia ed Europa con il Mediterraneo allargato e con l'intero continente africano su cui con particolare gravità si stanno ripercuotendo gli effetti del conflitto russo-ucraino. L'ottava edizione della conferenza internazionale Dialoghi del Mediterraneo a Roma che si è conclusa pochi giorni fa ha confermato la concreta attenzione con cui l'Italia guarda una regione quella del Mediterraneo allargato a cui ci legano storia e collocazione geografica side e opportunità. I fattori di interdipendenza che attraversano questo asse geopolitico fino a comprendere l'intero continente africano ci uniscono in un destino comune e ci chiamano a costruire assieme un futuro condiviso. Un futuro che ci richiede di lavorare adesso insieme e con intraprendenza per la pace e la stabilità e per la promozione di una crescita sostenibile e resiliente. Abbiamo visto che quando la comunità internazionale si muove con comunione di intenti i risultati diventano possibili. Ne abbiamo avuto l'esempio con il positivo avvio grazie al ruolo di mediazione della Unione africana del percorso di pacificazione del corno d'Africa. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni costruttive anche per arginare la violenza di cui sono vittime le popolazioni civili della regione dei Grandi Laghi. Analoga riflessione dobbiamo svolgere guardando i Balcani una regione fortemente colpita dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Condividiamo con questa regione le stesse sfide dalla crisi energetica a quella migratoria. L'Italia ha sempre sostenuto nell'ambito della Unione europea il percorso di allargamento. Oggi è più che mai cruciale offrire risposte concrete a questi Paesi che da molti anni ormai guardano alla prospettiva europea come alla migliore risposta possibile per il loro futuro. Il recente vertice Unione europea Balcani è stato un passo importante nella giusta direzione. Ora è necessario imprimere un'accelerazione ulteriore al processo. Con lo stesso spirito e con la stessa intenzione l'Italia continua a incoraggiare l'Unione europea ad allacciare legami sempre più strutturati e fruttuosi con gli altri organismi regionali in tutti i continenti. In questo senso vanno celebrati il recente vertice Unione europea ASEAN organizzazione cruciale per la stabilità dell'Asia. Il dialogo avviato per un incontro analogo con l'America Latina è negoziato in corso per la conclusione di intese volte a rafforzamento dei legami tra Unione europea e numerosi Paesi di entrambi i continenti. eccellentissimo decano autorità signore e signori ambasciatori le side più recenti non possono e non devono farci dimenticare le drammatiche e numerose situazioni di crisi nel mondo. Secondo gli ultimi dati posti a disposizione dall'Unicef oggi ci sono più bambini che hanno bisogno di assistenza umanitaria che in qualsiasi altro momento della storia recente assistiamo a una sovrapposizione di fattori di rischio senza precedenti i conflitti l'insicurezza alimentare che aumenta i tassi di malnutrizione le carestie causate dal cambiamento climatico la recrudescenza delle epidemie tra cui il colere e il morbillo rappresentano un pericolo ulteriore per i bambini sono più di 400 milioni i bambini che vivono in area di crisi almeno 36 milioni sono sollati e la metà dei bambini del mondo vive in condizioni di vulnerabilità l'Italia attraverso l'azione della cooperazione allo sviluppo non dimentica queste drammatiche emergenze l'attenzione dedicata ai nuovi teatri di crisi non è avvenuta a discapito della nostra azione in altri contesti nei quali continuiamo ad agire per fornire prima assistenza alle persone più vulnerabili e per favorire dinamiche durature di sviluppo condiviso perché se è vero che con la guerra non può esserci sviluppo è altrettanto vero che senza sviluppo non possono esservi stabilità e pace eccellentissimo decano autorità signore e signori ambasciatori il ristabilimento di una pace giusta è il mio auspicio per il futuro perché solo attraverso la pace l'umanità potrà guardare al suo progresso a questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti le diplomazie di tutti i paesi sono chiamate a un impegno comune l'Italia vi è grata per la vostra amicizia su cui è certa di poter continuare a raccontare rinnovo a tutti voi alle vostre famiglie e ai vostri popoli che qui rappresentate fervi di auguri per il Natale e il nuovo anno auguri grazie